Un uomo di origini straniere è stato arrestato nell'aretino dai carabinieri e adesso si trova agli arresti domiciliari. È ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di sei giovani studentesse minorenni. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbero svolti dal dicembre 2023 a gennaio 2024 all'interno di un autobus di linea extraurbana in provincia di Arezzo. Le indagini sono partite dalle dichiarazioni di una ragazza che era stata molestata e che, confrontandosi con altre coetanee vittime degli stessi abusi mai denunciati, avrebbe realizzato che l'autore poteva essere lo stesso. I carabinieri, dopo aver raccolto le testimonianze delle ragazze, hanno pedinato l'uomo e alla fine lo hanno fermato al capolinea della linea extraurbana degli autobus. Incensurato e residente in provincia di Arezzo, per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari. Arezzo si trova nella sua residenza in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.